La nostra società inizia come operatore nel campo delle telecomunicazioni e del supporto informatico nel 2014, costituita da giovani imprenditori sardi. Successivamente con l'avvento delle possibilità ventilate da Enac con le autorizzazioni concesse è stato reso possibile l'impiego di mezzi a pilotaggio remoto per monitoraggio del territorio piuttosto che servizi prestati attraverso questi dispositivi. In particolare noi a Sinova presentiamo un lavoro recente che abbiamo condotto per il progetto Dutei Scola, abbiamo sviluppato questo progetto portato avanti con l'istituto di Villa Massargia e gli studenti dell'istituto in cui abbiamo effettuato un'aereofotogrammetria del territorio adiacente all'istituto scolastico a coltivazione agricola.